Giornata di lavoro per le guardie volontarie di Fipsas Bergamo. Il piano semina sta procedendo? Come funziona? Il piano semina che è stato approvato da Regione Lombardia è in piena fase di attuazione. Oggi stiamo seminando la parte alta del fiume Serio con circa 25.000 vanotti di trota mediterranea da Ponte Nossa fino a Val Bondione. L'attività è sparpagliata su vari incubatori che abbiamo tra Val Seriana e Val Berenbana che copre l'intera rete ittica da trota. Abbiamo già concluso le semine di marmorate per circa 50.000 marmorate che abbiamo prodotto quest'anno nei vari incubatori. Un numero un po' ridotto rispetto agli altri anni perché abbiamo avuto alcuni problemi ma soprattutto abbiamo fatto un ragionamento di analisi genetiche per migliorare la qualità di queste marmorate. E quindi abbiamo scartato dalla produzione una serie di pesci che sembravano puri guardandoli ma in realtà si sono dimostrati ibridi di grado troppo alto per essere confermati in fase di riproduzione. Siamo quindi partiti con un progetto di rimonta importante sviluppato sugli incubatori di San Pellegrino e di Ponte Nossa dove abbiamo una serie di trote a questo punto microcippate, marcate, riconosciute che costituiranno i lotti di riproduzione per la marmorata futura anche perché abbiamo sempre il problema che vengano riconosciuti la lottonia o meno della fario perché in questo momento stiamo seminando il regime di deroga. Però l'anno prossimo potrebbe succedere che le farie non possiamo più seminarle e quindi dobbiamo per forza spostarci sulla marmorata. Spero che non sia così perché vorrebbe dire escludere dal ripopolamento tutti i torrenti di montagna per concentrarsi solo sul Serio e sul Brembo. Però purtroppo dipenderà dalla legge, non siamo noi che... Il fondamentale lavoro delle guardie, ecco, chi vede sul territorio cosa state facendo? Possiamo spiegarglielo. Beh, oltre che gestire gli incubatori, noi agenti Fipsas facciamo anche vigilanza sul territorio e controlliamo se ci sono degli inquinamenti o delle scariche abusive e nella gestione poi degli incubatori è molto impegnativa perché abbiamo riproduttori che svezziamo dalla nascita fino all'età di riproduzione e di conseguenza tutti i giorni periodicamente bisogna visitare le vasche, controllare che tutti gli animali stiano bene e di conseguenza poi anche nel periodo di spremitura fare scelte tra maschi e femmine, come diceva Cortinovis prima. Abbiamo pesci microcippati con la genetica analizzata molto alta, a un livello diciamo cercando di arrivare al 95-98%, riuscire ad arrivare al 100% sarebbe il massimo. Però abbiamo già un livello di percentuale di pesci con una percentuale molto alta di genetica pura e stiamo eliminando appunto quei pesci che noi ritenevamo belli a vista ma geneticamente analizzati sono stati riconosciuti ibridi e quindi da quelli non possiamo più recuperare le uova e anche il maschio liquido seminale. Portiamo avanti appunto questi pesci con un'autotonia molto alta di percentuale e speriamo in bene, insomma ci vuole un po' di tempo, un po' di anni di lavoro però la volontà c'è. Una stagione particolare questa, non siete mai arrivati così in là a seminare per il tempo quindi che è stato, ci ha messo lo zampino però è un fiume bellissimo che è destino per questi avanotti. Allora hai detto giusto, il fiume non possiamo mai lamentarci quando c'è tanta acqua, nel nostro caso abbiamo degli incubatoi dove abbiamo troppo pesce rispetto all'acqua che riusciamo ad avere perché non potevamo seminarlo, però adesso in serio stanno cominciando a rimettersi a posto, i torrenti anche, stiamo producendo uno sforzo rilevante per cercare di liberare il più possibile. Che speranze abbiano questi avanotti? La speranza ovviamente c'è, abbiamo visto che nel corso degli anni dove abbiamo cominciato a emettere trotte mediterranee che prima non c'erano hanno attecchito perché la popolazione si è cambiata dalla vecchia trotta atlantica che mettevano dappertutto, si è trasformata in trotta mediterranea e prima non c'era per cui sono gli avanotti che abbiamo messo. Abbiamo visto che dagli ultimi anni a venire abbiamo visto che i pescatori pescono dei bei pesci di marmorata, ci portano delle belle foto che poi questi pesci vengono anche rilasciati quindi vuol dire che il nostro lavoro che abbiamo fatto in questi anni di rilascio di avanotti di marmorata sta portandosi avanti un bel progetto. Nel fiume Serio era praticamente fino a 4-5 anni fa quasi impossibile catturare una marmorata, era quasi impossibile. Abbiamo cominciato tra Albino e Pontenossa da 5-6 anni a seminare avanotti e adesso vediamo trotte anche importanti, non voglio dire che sono tutte quelle che abbiamo seminato noi però prima non c'erano, la speranza è che cominciano a riprodursi da solo. Il nostro scopo adesso è magari di calare un po' i numeri ma di migliorare la qualità perché prima in fase iniziali ci siamo fatti andare bene un po' tutto, ma non un po' tutto, in realtà le avevamo selezionate, non c'erano tutte queste analisi genetiche che c'è possibilità di fare adesso, le selezionavamo dal punto di vista fenotipico, cioè guardavi un pesce, questa è una marmorata pura, purtroppo... Sì, anche per noi che facevamo vigilanza, di conseguenza il pescatore pescava una marmorata e pescare il librido era sempre difficile capire se era in sanzione o non era in sanzione perché l'affario ha una misura e la marmorata ne ha un'altra e quindi adesso invece vediamo che nel fiume ci sono esemplari veramente puri di marmorata, belli, sani perché facciamo analisi anche nei recuperi in loco sul fiume, preleviamo del tessuto, viene microcippato un pesce, è un progetto che sta sviluppando in Val Brembana e questo pesce nelle zone di riserva viene rilasciato e viene analizzato poi dall'ASLE l'esame che è stato prelevato dal pesce e si capisce che il pesce è autotono, è un buon pesce, è una genetica alta e quindi lavoriamo con questo senso, meno quantità ma più qualità insomma anche perché l'auspicio è sempre che si possa essere di supporto alla riproduzione naturale ma non vogliamo sostituirci dopo ci sono annate come questa che purtroppo la piena che è fatta a febbraio avrà se non azzerato fortemente ridotto quella che è stata la riproduzione naturale perché sicuramente quella piena lì ha portato via le uova e le larve per quello che ci sono anche gli incubatori per dare un aiuto al fiume che in queste situazioni viene a mancare esatto perché il fiume ha una capacità riproduttiva elevatissima il problema è che la stagionalità delle piene non è più quella storica che faceva la piena ai morti e poi fino a maggio restava tutto tranquillo adesso purtroppo la piena ti capita dentro a gennaio o febbraio che vuol dire azzerare la riproduzione naturale l'associazione pescatori Bergamo convenzionata Fipsas, ecco il lavoro dei volontari quanto è importante? è fondamentale, non avendo dipendenti dipendiamo solo dai volontari per cui abbiamo il nostro gruppo di guardie ma anche volontari al di fuori delle guardie quelli che ci sono all'opera stamattina non sono tutte guardie Fipsas per noi è fondamentale quando dobbiamo andare a seminare, quando ci devono segnalare dei problemi tutti i nostri tesserati ma va bene anche se non fossero tesserati se c'è un problema non è detto che riusciamo, noi a Bergamo non lo possiamo sapere di sicuro non è detto che una delle nostre guardie lo possa rilevare ma il pescatore che è sul fiume lo rileva è una sentinella e di conseguenza ogni sentinella può dare il suo contributo c'è un numero verde che si attiva, è 800 35 00 35, si fa la segnalazione, loro si chiamano e interveniamo subito immediatamente, nessun problema che è stato segnalato oggi è sabato mattina, un weekend, un bel tempo, a Puntenossa a salire ci sono pescatori com'è la mentalità oggi? la mentalità sta via via evolvendosi verso il massimo rispetto del pesce ovviamente non è generalizzato io sono disposto ad accettare che uno all'interno delle regole se prende una marmorata da 50 cm che è di misura la può tenere a me personalmente dispiace tantissimo perché so la fatica che c'è dietro per produrla e per arrivare lì però è a posto, ci sta, però la mentalità è molto migliorata è molto migliorata, quest'anno c'è un fenomeno un po' strano che nonostante siamo a giugno è il momento che le trote dovrebbero mangiare al massimo in realtà non stanno ancora mangiando, le trote piccole soprattutto mangiano discretamente nei torrenti, nel fiume, non so se per la tanta acqua che c'è sempre stata se per la neve che è rimasta fino a tardi, non so bene perché ma le segnalazioni che ci arrivano è proprio quello poco pesce magari grosso ma poco, le trote piccole non stanno mangiando per niente noi abbiamo per carità il problema ai roni e cormorani che purtroppo incide fortemente sulle nostre popolazioni, però c'era anche l'anno scorso l'anno scorso a settembre c'era trotelle dappertutto è impossibile che quest'inverno le abbiano mangiati tutti perché i cormorani c'era anche lo scorso anno Concludiamo con una domanda, per chi lo vive quotidianamente come sta il serio oggi? Ma allora, serio non ci possiamo lamentare sicuramente quelle piene che vengono non fanno bene al fiume però la natura non la comanda nessuno di conseguenza noi possiamo solo che limitare i nostri discari che ci sono i fognari, le pulizie, tenere in ordine e controllare praticamente che non facciano abusi sul fiume e quant'altro però la natura fa il suo percorso e però vediamo che il fiume si è ripreso bene ultimo in questi giorni poi è bellissimo in colorazione e tutto dopo l'avvento del concetto del deflussio minimo vitale effettivamente il serio è rinato perché prima era normale che ci fossero solo dei tratti in asciutta adesso un tratto in asciutta non esiste, non può succedere e quindi comunque la vita nel serio è garantita e comunque continua grazie a tutti